Un saluto a tutti i telespettatori di Liberi.tv, sono qui con la professoressa Natalia Barbato è finita la serata di presentazione del libro Alba di Sogni, Poesie e Corsare e volevo un commento a caldo da parte della professoressa se è stata una serata piacevole, interessante quali sono le caratteristiche di questo sentimento che ha legato tutti noi oggi alla presentazione del libro? Guarda, allora intanto Natalia, non professoressa perché non mi piace ma sai perché? Perché in realtà siamo tutti molto simili, molto legati da un unico obiettivo che è quello che stasera ci ha trasmesso per Paolo che è quello di credere ancora in un sogno che è molto bello che lo vogliamo chiamare Corsaro, lo vogliamo chiamare come lo vogliamo chiamare, va bene è vero, la poesia in realtà è una gran cosa tu hai scritto un libro bellissimo le poesie che ho ascoltato stasera, veramente alcune mi hanno, no, tutte mi hanno profondamente colpito e per lo stile perché è uno stile aperto in alcune parti merita una riflessione perché non è una modalità così scontata di far poesia però in realtà vuole veramente parlare a tutti e questo mi è piaciuto molto poi tu lo sai, io amo i giovani la mia vita è la scuola e quindi insomma è sfondata una porta aperta io credo che se tu riuscissi veramente a trasmettere questo amore meraviglioso che hai per la vita ma soprattutto per la speranza del futuro ai nostri ragazzi insomma è una gran cosa comunque è un libro bellissimo, mi è piaciuto moltissimo quel poco che ho letto però ce l'ho e quindi nel paio di giorni ti saprò dire e secondo te, per te, per come l'hai sentita tu quali sono state le emozioni che ti sono arrivate alla presentazione di questo libro? sai che cosa mi è arrivato? l'affetto che tutte le persone presenti nutrono nei tuoi confronti l'ho chiamata io no, 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 no non è vero perché tu avresti potuto anche avere un parterre tuo però veramente io ho visto nelle parole di alcune io conosco Maria Pia Cappello da tanti anni e apprezzo la sua sensibilità perché è una donna di una grande profondità di una grande cultura però sentire le sue parole così profondamente commosse così emozionate e mi ha colpito moltissimo devo dire la verità e mi è piaciuto proprio, è vero quello che è stato detto stasera l'atmosfera affettuosa ma nello stesso tempo consapevole molto bello allora ringraziamo Natalia un saluto agli ascoltatori telespettatori libri.tv e alla prossima sogniamo sogniamo amiamo la vita e amiamo i sogni e sogniamo sì assolutamente è fondamentale in bocca al lupo viva il lupo grazie auguri auguri grazie grazie